Il segretario leghista all'assemblea di noi con l'Italia torna sulla sua proposta, deve essere una richiesta che arriva dal basso. Sostengo un progetto comune, e il leader di Forza Italia, dovrà avere una forte connotazione cristiana ed europeista, restando plurale. Uniti in vista del 2023. La federazione di centrodestra nei fatti c'è già, a me piacerebbe che l'estate, grazie al percorso comune su giustizia e fisco, facesse nascere dal basso quella che non può essere una operazione di potere, di vertice. Matteo Salvini torna a parlare di federazione, al termine dell'assemblea di noi con l'Italia. È convinto che il centrodestra resterà unito alle elezioni del 2023. Ma sarà un partito unico? In questo momento sto lavorando sui temi del taglio delle tasse e riforma della giustizia. La forma per me viene dopo la sostanza, ha risposto. Sulla federazione dunque si accelera. Interviene anche Silvio Berlusconi. Il processo di costruzione del centrodestra unito sempre più credo debba essere il nostro orizzonte in vista del 2023. Un progetto che come era logico attendersi ha suscitato molti distingo, molti dubbi ed anche qualche contrarietà. Ma io credo sarà la forza stessa delle cose a portarci in questa direzione, è il messaggio del leader di Forza Italia all'Assemblea nazionale di noi con l'Italia. Il segretario leghista ha ribadito di stare lavorando per unire il centrodestra. Spero che questa benedetta federazione di centrodestra nasca dal basso e dai fatti. Penso che finalmente i frutti di questo paziente lavoro si stiano vedendo. Sono qua a sostenere un progetto comune. La federazione di centrodestra deve essere una richiesta che arriva dal basso, di cui i piani alti prendono nota. Ha aggiunto Salvini partecipando all'Assemblea nazionale di noi con l'Italia. Al teatro Quirino di Roma conta la squadra. Cristiano Ronaldo è andato a casa. Io conto sulla squadra. Su un centrodestra plurale che si aiuta a vicenda. La federazione non è una cosa che si fa e si annuncia magari in un teatro. Lega e Forza Italia quindi lavorano insieme. Provano sempre a farmi litigare con Berlusconi, ma non ci riusciranno. Berlusconi è stato un grande della politica, dell'editoria, del calcio, della cultura, ha detto ancora Salvini. Grazie. Grazie a tutti.